Come studiare. Consigli utili per lo studente dritte e abitudini per studiare meglio crescita personale. Visualizzazioni. 301. Avere delle buone abitudini di studio è essenziale se si vuole avere successo a scuola e nella vita. Alcune tecniche di studio e memorizzazione. Studia in modo più intelligente, non più duramente, impara le tecniche per apprendere velocemente. Non perdere una lezione. Gli studenti A non perdono mai una lezione. Inoltre, non perdono mai l'inizio o la fine di una lezione, perché spesso vengono fatti annunci importanti su esami e progetti. Se ti accorgi di perdere la concentrazione durante le lezioni, registrale sul telefono o su un semplice registratore vocale e ascolta di nuovo più tardi. Rivedi i tuoi appunti velocemente e spesso dopo una lezione o una lezione. Rileggi velocemente i tuoi appunti. Aiuta a memorizzare le informazioni nella memoria a lungo termine. Organizza visivamente i tuoi appunti. È utile riscrivere i punti chiave di una classe o di argomento come un diagramma. Prova a utilizzare una mappa mentale o un diagramma di flusso o codifica a colori gli elementi chiave dell'argomento. Quindi puoi dare una rapida occhiata prima di sostenere un esame. Pianifica in anticipo assicurati di concedere tempo sufficiente per i compiti e la revisione degli esami. All'inizio di ogni semestre, annota le scadenze e le date degli esami su un pianificatore e pianifica in tempo per la ricerca, la modifica e la revisione finale. Spiega le cose agli altri ti aiuta a rendere le cose più chiare nella tua testa se cerchi di spiegare le tue risposte verbalmente a persone che non sanno molto sull'argomento. I tuoi genitori e fratelli fastidiosi potrebbero essere utili per questo. Affidati ai sistemi, non ha la motivazione gli studenti che vanno bene a scuola non aspettano di essere dell'umore giusto per fare una sessione di studio mirata prima di mettersi al lavoro. Gli studenti di successo si affidano a sistemi per assicurarsi di portare a termine il lavoro, anche quando non ne hanno voglia. Rivedi tutte le nuove informazioni che hai appreso lo stesso giorno questa revisione quotidiana non richiederà molto tempo per essere completata. ma è un passaggio fondamentale che ti assicura di rimanere aggiornato sul materiale. L'applicazione di questo suggerimento ti aiuterà anche a spostare più rapidamente le informazioni nella memoria a lungo termine. Annota tutto per essere uno studente efficace, scrivi tutto. Ciò include i compiti da completare, le date dei test e degli esami, le scadenze dei progetti, le date dei concorsi, eventi scolastici e familiari, eccetera. Non dare per scontato che sarai in grado di ricordare qualcosa, scrivi tutto per rimanere organizzato. Questo suggerimento potrebbe sembrare estremo, ma la vita diventa più impegnativa quando invecchi. Quindi questo suggerimento ti servirà bene per il resto della tua vita. Crea abitudini che ti cambieranno la vita. Svegliarsi presto al mattino non è l'unica abitudine che dovresti instaurare durante il periodo scolastico. Questo periodo è infatti unico nella tua vita. I tuoi genitori, i tuoi amici e la società in generale si aspettano da te che ti concentri anima e corpo sulla tua crescita culturale. Perché non approfittare di questo periodo per iniziare anche il tuo percorso di crescita personale. Organizzati. Cercate di tenere un calendario dettagliato dove segnare tutti i vostri impegni, attività di studio, lezioni, eventi sociali, attività extrascolastiche, eccetera. In questo modo, riuscirete meglio a raggiungere i vostri obiettivi scolastici. Fare un piano per quello che farai e quando lo farai ti assicurerà di essere sempre davanti alla curva, letteralmente. Pratica, pratica, pratica. I musicisti praticano i loro strumenti. Gli atleti praticano abilità sportive. Lo stesso dovrebbe valere per l'apprendimento. Se vuoi essere in grado di ricordare le informazioni, la cosa migliore che puoi fare è esercitarti, dice Katherine Rosen. È psicologa alla Kent State University in Ohio. In uno studio del 2013, gli studenti hanno sostenuto prove pratiche per diverse settimane. Durante il test finale, hanno ottenuto in media più di un voto in lettere migliori rispetto agli studenti che hanno studiato nel modo in cui avevano normalmente. In uno studio condotto alcuni anni prima, gli studenti universitari hanno letto materiale e poi hanno sostenuto test di richiamo. Richiamo. Alcuni hanno fatto un solo test. Altri hanno fatto diversi test con brevi pause di diversi minuti nel mezzo. Il secondo gruppo ha ricordato meglio il materiale una settimana dopo. Non rileggere solo libri, appunti da adolescente, Cynthia Nebel ha studiato leggendo i suoi libri di testo, fogli di lavoro e quaderni. Ancora e ancora e ancora ricorda questa psicologa della Vanderbilt University di Nashville, Tennessee. Ora, aggiunge, sappiamo che è una delle cattive capacità di studio più comuni che gli studenti hanno. Non fare più cose contemporaneamente. Gli studi hanno dimostrato che il multitasking è fisicamente impossibile. Dividilo. Studiare non è divertente all'inizio e costringerti a superare una maratona di studio non farà che peggiorare le cose. Dividere il tuo lavoro in parti gestibili e ricompensarti quando finisci ogni pezzo renderà lo studio più divertente. Dormire. Non sottovalutare l'importanza di quelle otto ore di ZZZ ogni notte. Ottenere un buon riposo notturno migliorerà la tua concentrazione e migliorerà la tua memoria di lavoro. Stabilisci un programma. Lavori meglio subito dopo la scuola o dopo aver cenato. Sei più produttivo in blocchi di 90 minuti o scatti di mezz'ora. Trova un programma che funzioni per te e rispettalo. Prendi nota. La correlazione tra l'avere degli ottimi appunti e le buone abitudini di studio è innegabile. Prendere appunti non solo ti terrà più impegnato durante la lezione, ma ti aiuterà anche a restringere il campo di cui hai bisogno per studiare quando il tempo degli esami si avvicina. È molto più facile rileggere i tuoi appunti che rileggere l'intero libro di testo. Studia. Questo potrebbe essere ovvio, ma lo sapevi che c'è un modo giusto e uno sbagliato di studiare? Rivedi il tuo materiale con diversi giorni di anticipo, in piccoli pezzi e in modi diversi, ad esempio, scrivi flashcard un giorno e fai dei test pratici il giorno successivo. In altre parole, non stipare. Non procrastinare. Cercate sempre di studiare in maniera costante e coerente, evitando di accumulare il lavoro negli ultimi giorni prima dell'esame. Ricordate che le buone abitudini di studio provengono dalla stimolazione di voi stessi. Provate a studiare un po' ogni giorno, piuttosto che stipare il tutto per la settimana prima dell'esame. Questo vi aiuterà a scongiurare un esaurimento nervoso e ricordare meglio ciò che si è appreso. Gestisci il tuo spazio di studio. Trova un luogo che massimizzi la tua produttività. Cerca luoghi lontani dalla televisione e da altre distrazioni. Che si tratti della tua biblioteca locale o solo della scrivania della tua camera da letto, metti da parte uno spazio studio in cui vorresti trascorrere del tempo. Trova un gruppo di studio. Sedersi con un gruppo di persone che stanno imparando le tue stesse cose è un ottimo modo per esaminare il materiale di classe confuso o prepararsi per un grande test. Puoi interrogarti a vicenda, insegnare di nuovo il materiale e assicurarti che tutti siano sulla stessa pagina. Dopotutto, insegnare a qualcun altro è il modo migliore per imparare. Fare domande. Sei a scuola per imparare, quindi non aver paura di fare proprio questo. Chiedere aiuto a un insegnante, a un tutor o ai tuoi amici è un modo sicuro per assicurarti di aver compreso veramente il materiale.